Ciao a tutti, sono Silvia Parietti, sono un'ex campionessa italiana di ciclismo su strada e volevo invitarvi il 4 maggio alle 10.30 alla zona Giasche di Salina di Volterra perché con Etrusca Volley e Vellutruria Pomo Arance stiamo organizzando una bellissima giornata di sport Hercules è la forza dei sogni e vi aspettiamo numerosi con bici e casco e a presto, ciao ciao! Grazie!